Il mondo della moda è in fermento. Le collaborazioni tra brand stanno ridefinendo i confini della creatività e dell'innovazione. Gap, l'iconico brand americano noto per il suo stile casual, ha unito le forze con Cult Gaia, il brand di Los Angeles amato per i suoi design moderni e ispirati alla natura. Questa unione rappresenta un incontro tra tradizione e modernità, tra praticità e lusso. Questa collaborazione inaspettata unisce due estetiche distinte, dando vita a una collezione unica che ridefinisce il concetto di casual per gli appassionati di moda di oggi. Ogni pezzo della collezione è stato pensato per offrire qualcosa di nuovo e fresco, mantenendo al contempo l'identità di entrambi i brand. Gap, con la sua storia radicata in un abbigliamento pratico e accessibile, porta la sua esperienza nella creazione di capi essenziali per il guardaroba. I suoi capi sono conosciuti per la loro versatilità e comfort, elementi che sono stati integrati perfettamente in questa nuova collezione. Cult Gaia, nota per le sue borse scultoree e l'abbigliamento perfetto per le vacanze, inietta una dose di sofisticatezza contemporanea e un design all'avanguardia. I suoi pezzi sono spesso considerati opere d'arte e questa collezione non fa eccezione. Il risultato è una collezione che fonde perfettamente la vestibilità quotidiana di Gap, con l'estetica elevata di Cult Gaia. Ogni capo è stato progettato per essere indossato in molteplici occasioni, rendendo la collezione estremamente versatile. Questa partnership segna un cambiamento nel panorama della moda. Non è solo una collaborazione, ma una dichiarazione di intenti che mostra come due brand possono unirsi per creare qualcosa di veramente speciale. Evidenzia il crescente desiderio di capi versatili, che possano adattarsi dal giorno alla sera, dalle uscite informali alle occasioni speciali. La collezione è stata progettata pensando a chi desidera un guardaroba che possa facilmente passare da un contesto all'altro senza perdere stile. La collezione Gap X Cult Gaia soddisfa questo desiderio, offrendo una gamma di capi essenziali elevati, pensati per arricchire lo stile di tutti i giorni. Ogni pezzo è un mix perfetto di funzionalità e design, rendendo ogni outfit unico e memorabile. La collezione Gap X Cult Gaia è una testimonianza del potere della collaborazione. Questa partnership rappresenta un incontro tra due mondi distinti ma complementari, unendo l'eredità di Gap con l'innovazione di Cult Gaia. È un'armoniosa fusione tra classico e contemporaneo, dove ogni capo racconta una storia di tradizione e modernità, in cui le silhouette denim e casual wear caratteristiche di Gap vengono reinterpretate attraverso l'obiettivo di sofisticatezza moderna di Cult Gaia. Ogni pezzo è pensato per offrire comfort senza rinunciare allo stile. La collezione presenta una selezione curata di abbigliamento, accessori e calzature, ognuno dei quali è stato attentamente progettato per riflettere l'essenza di entrambi i marchi, che riflettono le distinte sensibilità progettuali di entrambi i brand. Ogni dettaglio è stato considerato per creare un equilibrio perfetto tra funzionalità e estetica. L'influenza di Cult Gaia è evidente nell'uso di texture naturali, che aggiungono profondità e carattere ai capi, come la rafia e la pelle, materiali che non solo sono belli da vedere, ma anche piacevoli da indossare, che aggiungono un tocco di eleganza organica agli stili classici di Gap, rendendo ogni capo unico e distintivo. La palette di colori è altrettanto raffinata, pensata per essere versatile e senza tempo, con una base neutra di bianco, nero e beige, che permette di creare look eleganti e sofisticati, accentata da tocchi di verde brillante e terracotta, per aggiungere un pizzico di vivacità e freschezza. Questa armoniosa combinazione di colori e texture crea una collezione coesa, sofisticata ma accessibile, adatta a ogni occasione. La collaborazione offre una gamma di capi pensati per la versatilità, dai bustier in denim, che possono essere abbinati a diversi outfit, e i jeans a gamba larga agli abiti maxi fluidi, perfetti per un look elegante ma rilassato, e ai capi sartoriali separati, che possono essere mixati e abbinati per creare look unici. La collezione soddisfa una varietà di stili personali e occasioni, offrendo opzioni per ogni gusto e preferenza. Ogni capo è progettato per essere abbinato con facilità, permettendo a chi lo indossa di esprimere la propria individualità, consentendo infinite possibilità di stile. Questa collezione non è solo moda, è un'esperienza di stile che celebra l'incontro tra passato e futuro. Il denim occupa un posto centrale nella collezione Gap X Cult Gaia, reinterpretato in chiave contemporanea. Il pezzo forte è senza dubbio il bustier in denim, una rivisitazione moderna di una silhouette classica. Realizzato in denim rigido, il bustier presenta un corpetto strutturato con scollo a cuore, che aggiunge un tocco di femminilità a questo tessuto altrimenti utilitario. Il bustier può essere vestito elegante o casual, riflettendo l'enfasi della collezione sulla versatilità. Abbinatelo ai jeans a gamba larga, coordinati per un look da giorno chic e disinvolto. Per un outfit da sera più elegante, indossate il bustier sopra un abito maxi fluido o una camicia bianca fresca, aggiungendo un tocco di struttura e grinta. Oltre al bustier, la collezione offre una gamma di capi in denim, dai classici jeans a gamba dritta alle giacche e gonne in denim. Ogni capo è realizzato in denim di alta qualità e presenta dettagli di design unici, come cuciture a contrasto, orli grezzi e finiture consumate, che aggiungono un tocco di personalità e carattere a questi capi essenziali del guardaroba. Pelle lussuosa, eleganza disinvolta con un tocco moderno. La pelle è un materiale che ha sempre evocato un senso di lusso e raffinatezza. Nella moda contemporanea, la pelle non è solo un simbolo di eleganza, ma anche di versatilità e modernità. La pelle aggiunge un tocco di lusso alla collezione Gap X Kult Gaia, con una gamma di capi pensati per elevare lo stile di tutti i giorni. Questa collezione è stata progettata per coloro che desiderano un look sofisticato senza sforzo, combinando il meglio della moda di alta gamma con la praticità quotidiana. La collezione presenta una selezione di coordinati in pelle, tra cui un elegante blazer e pantaloni abbinati, perfetti per creare un look chic e disinvolto. Questi capi sono ideali per chi vuole fare una dichiarazione di stile senza rinunciare al comfort. Il blazer presenta una silhouette rilassata con una sartoria precisa, mentre i pantaloni hanno un taglio a gamba larga che slancia la figura. Questo abbinamento è perfetto per un look da ufficio moderno o per un'uscita serale elegante. Per un'interpretazione più casual della pelle, la collezione comprende anche una gonna in pelle morbidissima. Questa gonna è pensata per chi ama un look rilassato, ma alla moda. La gonna ha una silhouette a trapezio che si adatta a tutte le fisicità e può essere vestita elegante o casual, il che la rende un'aggiunta versatile a qualsiasi guardaroba. La sua versatilità la rende perfetta per ogni occasione, dal lavoro al tempo libero. Abbinatela a una t-shirt infilata dentro e a un paio di sneaker per un look da giorno casual, oppure vestitela elegante con una camicia di seta e un paio di tacchi per una serata fuori. Questo capo è un vero e proprio jolly nel guardaroba di ogni donna. I capi in pelle della collezione Gap X Cult Gaia sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano dettagli minimal che consentono alla bellezza naturale della pelle di risaltare. Ogni pezzo è stato attentamente progettato per garantire durata e stile senza tempo. La palette di colori neutri assicura che questi capi possano essere facilmente integrati in qualsiasi guardaroba, aggiungendo un tocco di sofisticatezza e brinta a qualsiasi outfit. I colori neutri permettono di abbinare facilmente questi capi con altri pezzi del proprio guardaroba, creando infinite combinazioni di stile. Fantasia di pelliccia sintetica Un capo di effetto per i consumatori consapevoli La collezione Gap X Cult Gaia si rivolge al consumatore consapevole con l'inclusione di un lussuoso cappotto in pelliccia sintetica. Questo capo di effetto è allo stesso tempo elegante ed etico, offrendo un'alternativa cruelty free alla pelliccia tradizionale. Il cappotto è incredibilmente morbido e soffice, offrendo calore e comfort senza compromettere lo stile. Il cappotto in pelliccia sintetica è un capo versatile che può elevare qualsiasi outfit. Indossatelo sopra un abbinamento casual jeans e t-shirt per un tocco di glamour immediato, oppure abbinatelo a un abito da cocktail per un'occasione più formale. La silhouette oversize e il colore neutro del cappotto lo rendono un capo di effetto che può essere facilmente integrato in qualsiasi guardaroba. L'impegno di GAP per la sostenibilità